No, tu dimmi se alle 6 del mattino... Ti ho fatto una domanda. No, ma che domanda è? Allora, ti ho chiesto. Intanto questo è l'ufficio, la sala fumatori. Ti ho chiesto, tu a casa hai dei costumi di carnevale buffi? Partendo dal presupposto che se io avessi dei costumi di carnevale buffi a casa, tu mi prenderesti per il culo per almeno 56 anni. Quindi la risposta è sì. No. Tu hai dei costumi di carnevale buffi. Quando fai l'amore ti vesti da cigno. Dai che ti vesti da cigno quando fai l'amore. Ma secondo te... Perché sono seduto sul vano? Appunto, mi fai queste domande alle 6 del mattino. No. No, no. Sono un robot. No, non scorreggiare. Deve essere questa alimentazione che sta tenendo a Miami. Io ieri sera invece sono uscito con i miei amici e ho bevuto... Un rabarbaro? Aspetta, 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 sono un robot. No, 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 no. No, 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 no. No, dai no. Dai no. Sogno un robot. No. Vediamo se indovini. Vai vai. Espresso. Si. Sigaretta. Si. Ieri hai mangiato carne? No, non mangio più carne.